Oh mio Dio, un contatto Comandante Staufber, abbiamo un contatto radar di una torpediniera che si sta avvicinando al nostro sommargibile Vediamo l'emissione rapida e il cambio di atmosfera Controllo l'attività sul sonaro, sono a 800 metri Hanno lanciato un siluro, 600 metri, 500 metri, 400 metri 300 metri Ordino di azionare 7D di difesa Ci ha colpito Chiude, affetto Così io riesco a comprendere la visibilità No, mi serve la luce, non trovo le montande nere Potrebbe venire direttamente fuori È vero, è uguale Ok, allora facciamo prima così Poi senza, poi con il bianco e poi con l'arancione Sembra una della marina È spettacolare, spettacolo, spettacolo Riesci a trovare le montande nere? Perfetto Eh ma devi, quando apro io? Devi darmi un segnale tu? Allora tu conti fino a Allora tu conti fino a 1, 2, 3 Però fai partire a 2 Io dico, io dico Io sto già registrando Io sto già registrando Eh eh Vedi ora? Un spazzolino Un nuovo spazzolo Ok, hai già fatto partire Sì, sto facendo solo la prova del backstage Il backstage Fimi, prima di voi Oh no, non ho il backstage No, no, no Fai direttamente Fai direttamente Fai direttamente Eh appunto Fai direttamente Fai direttamente Sto già registrando Aspetta, aspetta Vi do il via Io vi do il via Tu conti fino a 3 E dopo apri Dopo il via Dopo il via Ok Però tu devi avere già la telecamera Ma io ho già la telecamera pronta Ma tu devi filmare lui prima Sì, lo so Dammi un segnale Infatti per quello che ti dico Ti do Dammi un segnale fottuto Io dico via E quel momento Parte la registrazione Dopo 3 secondi Lui Io giro la telecamera Ma bene, dopo 3 secondi Entra lui Anche 5 direi Ok Facciamo 3 va Via Come andate abbiamo un contatto radar Portino un'inversione rapida Portino un'inversione rapida Hanno appena lanciato il siduro Lì sento sul sonor Sono 700 metri 800 metri No, ho detto No, ho detto Di più Di quello che è 800, 900 1000 2000 2000 Come prima 3 secondi Via Via No, ho detto No, ho detto No, ho detto Grazie a tutti.